musica musica what the aaaah aaaah musica 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 una matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89 oggi siamo nei video dove vi dirò chi ha vinto il contest dei youtuber sarà un video abbastanza corto non lo porterò molto alla lunga anche perchè avete altri due video da vedere dovreste vedere la chatrouille oggi e moto gp perchè abbiamo superato i 20.000 iscritti grazie ancora di cuore a tutti allora innanzitutto parliamo dei video che mi sono stati inviati ci sono dei pro e dei contro io visto che ci tengo a voi e vi voglio far crescere cioè non so come gli altri youtuber vi dicono si bravissimi tutti bravi continuate così no io voglio essere sincero allora mi sono arrivati all'incirca 110 video di risposta e questo vuol dire veramente tanto e mi fa molto piacere me li sono visti tutti me li sono visti tutti dal primo all'ultimo ci sono stati vlog molto interessanti ci sono stati gameplay ci sono state recensioni ci sono state fan art ci sono stati gameplay ho apprezzato veramente molto questa vasta gamma di video che mi avete mandato eeeh allora innanzitutto ho visto parecchi cat mario ragazzi tanti ho visto parecchi happy wheels ho visto parecchi indie horror cercate cercate di mettere la videocamera cioè la vostra faccia più piccolina perchè in alcuni video era troppo grande era troppo grande rispetto al video quindi vi consiglio di metterla leggermente un pochino più piccolina più o meno come le metto io un'altra cosa evitate di lasciare le bande nere ai giochi per esempio su sony vegas se voi cliccate col tasto destro sul video proprietà spuntate cioè togliete manteni aspettrati o vi toglie le bande nere eeeh cercate di migliorare sempre comunque come ho detto audio e video perchè al giorno d'oggi i video devono essere di grande qualità come i commenti potete fare di più assolutamente ma mi avete fatto molto divertire addirittura c'è chi si è inventato delle intro molto divertenti che si è travestito ha fatto il telegiornale lui che faceva la scenetta sono stati molto divertenti e quindi sono stati tutti bellissimi video comunque complimenti a tutti ma come ho detto vince solamente uno nuovamente nuovamente perchè anche nell'altro contest il vincitore era una categoria di video normalmente ha vinto una recensione di un gioco allora per questa recensione è su The Last of Us di Mickey Mix allora Mickey Mix complimenti secondo me fra tutti i video che mi hanno mandato quello più completo è stato il tuo e vi dico anche perchè comunque lui ha fatto un tipo una recensione perchè non era proprio un gameplay live lui ha giocato a The Last of Us e ci ha commentato sopra spiegando un po' come è il multiplayer è stato abbastanza lineare come discorso e mi è piaciuto quindi secondo me meriti di vincere tu ovviamente vi dico complimenti vivissimi a tutti gli altri partecipanti state tranquilli vi darò occasione di rifare un contest dove possiate partecipare per vincere però visto che mi hai fatto una recensione è inutile fare un gameplay insieme a te ti darò la sponsorizzazione sui prossimi tre video nei prossimi tre video ti metterò il link in descrizione del tuo canale sotto al mio video poi comunque già la sponsorizzazione ce l'hai avuta in questo video link in descrizione del ragazzo che ha vinto andate a vedere un po' il suo canale a pochi video quindi vi consiglio di farne di più assolutamente quindi congratulazioni a mickey mix che ci ha fatto telasto fast molto 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 divertente non sapevo che c'era quella modalità sinceramente peccato non avere la playstation 3 quindi eh complimenti vivissimi a tutti grazie grazie per aver partecipato in così tanti ci sarà occasione di farvi ancora partecipare eh vi do un consiglio cercate cercate di essere più originali possibili cioè non mi fate sempre i soliti giochi cercate di migliorare tanto è vero che ho visto anche il retro gaming e questo mi ha fatto piacere ho visto tante cose belle ragazzi complimenti il video di oggi può finire qui pollicione in su commentate al prossimo appuntamento su CiccioGamer ciao sono CiccioGamer se il video ti è piaciuto lascia il pollicione se non sei un corduro e se non lo lasci stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro oh yeah beee